È stato un anno totalmente diverso dai precedenti in quanto sono stati modificati in maniera totale i servizi e le modalità di intervento. Il 2020 è stato senza dubbio un anno senza precedenti anche per la Polizia Municipale di Arezzo in prima linea nell'anno della pandemia nelle azioni anti-Covid. Ci siamo dovuti adattare come comando ai vari DPCM, ai vari colori delle zone, quindi il personale ha dovuto doversi adattare a delle situazioni mai riscontrate in precedenza. Anche quest'anno comunque in occasione del giorno del patrono San Sebastiano il corpo ha tirato le somme sull'attività svolta e ha presentato gli obiettivi futuri. Sul piano dei numeri dunque quasi 371.000 i chilometri percorsi dagli agenti in auto ed in moto nel corso dell'ultimo anno, circa 60.000 invece le chiamate alla centrale operativa. Per quanto riguarda le multe poi sono state oltre 55.000 le sanzioni accertate, capitolo sempre molto delicato e quello relativo all'infortunistica stradale. Gli agenti hanno rilevato 526 incidenti, due purtroppo mortali. Ma l'anno della pandemia ha visto impegnati gli agenti anche nel far rispettare le normative anti-Covid 270 in tutto le sanzioni elevate. A seguito delle chiusure c'è stata una diminuzione delle violazioni inerenti alla zona traffico limitato e c'è stata una diminuzione delle contravezioni inerenti ai divieti di sosta. Mentre per quanto concerne le norme di comportamento e i reati riguardanti la guida in stato di ebrezza o guida sotto sostanze stupefacenti, sono rimasti inalterati. E c'è stato un aumento delle sanzioni estracodice che riguardano tutti il rispetto del DPCM per il Covid. Nell'occasione è stata presentata anche la carta dei servizi, uno strumento tramite il quale il cittadino potrà aver conoscenza dei servizi svolti dalla polizia municipale. Il primo obiettivo è quello dell'acquisto di un autoveicolo adibito ad ufficio mobile. Quindi di adattare un furgone con tutta l'attrezzatura per far sì che i due agenti si spostano dalle zone di Saione, zona di piazza Giotto, zona di piazza Guido Monaco per avere un rapporto diretto con il cittadino. Per quanto riguarda il personale, infine l'obiettivo di sindaco e comandante è quello di arrivare a quota 100. Attualmente i vigili sono 90. Dal mese di settembre sono arrivati 15-9 agenti. La volontà è quella di raggiungere quota 100, cioè raggiungere 100 unità. Speriamo di arrivarci in un triennio, cioè nel 2023, in base anche alla possibilità assunzionale che ci possa dare il governo.